La scuola non siatella tra le istituzioni militari più prestigiose d'Italia ha ricevuto in dono due opere dal maestro napoletano Domenico Sepe, la statua dell'allievo, prima e unica scultura in bronzo a grandezza naturale ispirata alla tradizione delle walking status delle città del nord Europa ed un'edizione speciale del calendario 2025 che celebra la tradizione dell'eccellenza formativa della scuola. Innanzitutto questo progetto nasce da un'idea di Francesco Pascotto che è un ex allievo e che conduce un percorso magnifico ma anche tortuoso per arrivare alla realizzazione dell'opera. Io ho sposato questo progetto e l'ho reso mio chiaramente attraverso una ricerca iconografica sulla divisa, sulla storia della scuola. Il calendario vuole essere anche un racconto iconografico dei luoghi cardini di questa scuola, è un racconto pittorico in questo caso dove è anche presente la scultura ma rivista in chiave appunto pittorica. Il calendario, il dipinto, la statua raccontano un legame forte di questa scuola dell'Annunziatella con la città di Napoli. Per noi è un grande vanto ma deve essere anche un grande impegno da parte di tutta la nostra comunità, delle forze, delle istituzioni, delle forze politiche per difendere e rafforzare sempre di più la presenza dell'Annunziatella a Napoli che ha bisogno di sempre di più risorse e più spazi. Quindi mi auguro che il progetto di allargamento dell'Annunziatella possa avvenire in tempi rapidi.